Sono ripartite le attività nel Centro Comunale d'Arte Exma di Cagliari, un programma fito di eventi che si svolgeranno per tutto il 2024. Parliamo di festival, concerti, eventi di valorizzazione del comparto Viti Vinicolo, mostre e altre proposte, che saranno ospitate nelle sale interne e nella corte all'aperto del centro di via San Lucifero. Tante attività che ci accompagneranno fino a dicembre 2024, spazieremo anche dalla musica, di nuovo all'arte, fino ad arrivare in autunno con i consueti festival Tutte Storie e Festival Scienza. A partire da oggi, fino al 26 maggio, l'Exma ospiterà la nuova mostra interattiva dedicata al grande scienziato siracusano Archimede. Una mostra organizzata da orientare con il patrocinio del Comune di Cagliari, in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, con la sede di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Culturale ETS Nicolai Firenze ed il Museo Leonardo da Vinci di Firenze. È una mostra di divulgazione scientifica che ci consente di comprendere concetti anche molto complessi in maniera molto facile, attraverso 29 macchine che sono interattive, attraverso le quali possiamo sperimentare e comprendere i famosi principi e le teorie di Archimede.